...edizioni della mostra, sta per arrivare, gli urli sono per lei, Miss Veronica Ciccone, Madonna in questo momento è scesa dalla macchina per la presentazione ufficiale del suo film in concorso W.E. La storia controversa, eccola qui, abbiamo intravisto un occhiale rosso, è come giusto che sia, il pubblico è in delirio, con gli occhiali da sole, chissà perché, una provocazione, vuole nascondere qualcosa, stamattina in realtà in conferenza stampa si è presentata con un affascinante dubbino nero e colletto bianco, senza occhiali, quindi abbiamo potuto vedere tutto il suo charme, il suo fascino, credo che riusciate a sentire le urla dei tanti fan di Madonna, eccola qui, davanti i tanti fotografi che stanno immortalando lei, la regina dello showbizio internazionale, tanti amori per questa donna, a iniziare da Sean Penn, Warren Beatty, conosciuto sul set di Dick Tracy, Guy Ritchie, poi per non parlare di tutta la schiera dei tanti Toy Boys, e chissà magari se stasera, qualche Toy Boys, faccio un nome a caso, possa diventare il suo nuovo compagno, perché no? è come giusto che sia la delegazione del film, attende in disparte, per far sì che Madonna possa effettuare tutte le foto, non scende, non scende dai fan, ma rimane sulla passerella, possiamo dirlo? A differenza invece di una Kate Winslet, che ha dedicato tutto il suo red carpet, ai tanti fan che chiedevano un autografo di una foto, una storia d'amore controversa, quella narrata appunto in WWE, per cercare di sviscerare la reale natura dell'amore, un amore che, malgrado tutto, Madonna non sta vivendo in questi ultimi anni, insomma non dobbiamo far gossip, ma è inevitabile, lo sappiamo tutti, quelle che sono le sue ultime vicende sentimentali, e quella qui si inchina per togliersi il suo lungo strascico dai tacchi, inevitabili problemi che possono accadere a queste regine del fashion e dello showbizio internazionale, e come è giusto che sia, la cerimonia vuole che tutto il cast di WWE in questo momento è immortalato dai tanti fotografi, eccoli, li vediamo, Madonna al centro, Andrea Rosbero, Oscar Isaac, Abby Cornish e tutti insieme a lei a Madonna, regista, sceniciatrice, inevitabilmente, ha collaborato anche alla colonna sonora, di questo suo secondo film, Paolo Baratta e Marco Müller, come vuole il cerimoniale, attendono, Madonna per, stringerle la mano prima della sua, prima mondiale, qualche piccolo problemino con un abito grigio, tortora chiaro, con farfalle, Oscar Isaac, James Darcy, lo ricordiamo, questo attore londinese, ha iniziato con una serie di film horror, magari saremo proprio curiosi di sapere, come ha fatto questo passaggio, da la schiera di film horror, ad un film storico, punto, W, sicuramente uno dei momenti più glamour, più affascinanti, più emozionanti, quello del red carpet, di Madonna, che è ora di nuovo davanti ai fotografi, con tutta la delegazione del film, a suo fianco, Abby Cornish, la nuova Nicole Kidman, la ricordiamo appunto in, Paradiso più Inferno, con il ruolo di Candy, e anche un altro film storico, Elizabeth, The Golden Age, qualche informazione invece su, Oscar Isaac, lui è nato in Guatemala, nel 1980, e subito, si è trasferito, in, a Miami, in Florida, dove ha fatto parte di un gruppo, punk rock, ha raggiunto la popolarità con, Nativity, un film ispirato alla vita di Gesù, dove ha interpretato il ruolo di Giuseppe, ha fatto anche, eccola qui, sta arrivando in questo momento, ci auguriamo che possa venire qui da noi, hi Madonna, hi Madonna, ecco qui, davanti le telecamere di Venezie, miss Veronica Ciccone, hi Madonna, welcome back to the Venice Film Festival, come sta? Di nuovo al Festival di Venezia, come sta? Sono così entusiasta di vedere il mio film, qui anch'io mi può parlare, del messaggio, del film W, che non c'è mai una cosa che possa essere definita l'amore perfetto, però l'amore è la cosa più importante al mondo, non bisogna mai smettere di cercarlo, come ha utilizzato la musica in questo film? Mi ha usata molta, è comprensibile, grazie, buona serata e congratulazioni, grazie. Ragazzi, che dire, ho stretto la mano a Miss Veronica Ciccone, per voi, per Rai Movie, questa seconda giornata della 68esima edizione della mostra d'arte cinematografica di Venezia, non so quello che sto dicendo, perché sto parlando, perché l'emozione mi porta a parlare, quindi se dovessi dire qualche bagianata, vi prego di scusarmi. Bellissimo, affascinante, lo charme di Madonna, qui davanti le telecamere di Rai Movie, per presentare il suo film W, la storia controversa tra Edoardo VIII e Wally Simpson. disponibile con le telecamere di Rai Movie, come invece non è stata che Twinslet, aiaiai, però non è andata dai fan, insomma, questo dobbiamo ricordarlo, a me tremano le gambe, lo devo dire, ragazzi, inutile dire che sono tranquillo davanti ad un'icona del pop, e ora anche del cinema mondiale. Wow, ce l'abbiamo fatta, Madonna, qui a Rai Movie, per voi, vi ricordo appunto il nostro sito, www.raimovie.rai.it, la delegazione del film sta entrando in questo momento, www.raimovie.venezia, il nostro sito, scusate, le emozioni inevitabilmente fa un po' brutti scherzi, intanto tutto lo charme, tutto il fascino della delegazione del film di Madonna, che entra sulla sala grande interamente ristrutturata per questa 68esima edizione. l'amore.